gentili telespettatori buona giornata c'è già la data per l'inizio del processo contro matteo salvini in tribunale sarà il 15 di settembre la prima udienza a palermo per il caso open arm quindi è stato rinviato a giudizio il processo comincerà il prossimo 15 settembre davanti alla seconda sezione del tribunale di palermo la difesa della patria e sacro dovere del cittadino articolo 52 della costituzione dice salvini vado a processo per questo per aver difeso il mio paese ci vado a testa alta anche a nome vostro prima l'italia sempre ha commentato sui suoi profili social mentre siamo felici ha scritto su twitter open arms per tutte le persone che abbiamo tratto in salvo durante la missione 65 in tutti questi anni la verità del med è una siamo in mare per raccontarla dicono io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti arrivederci a tutti grazie a tutti